E' evidente che in questa fase vogliono ridurre gli spazi disponibili in attacco. Il messaggio è chiaro. Prova la conclusione! E c'è il gol! Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Aggressività e verticalizzazione. Può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica e preparazione tattica. E' già la sua seconda esultanza personale, ma non è detto che sia l'ultima. E' il momento dei cambi.